Per il nostro avvolgere subito, anche Darsi che il futuro ci arriveremo, abbiamo introdotto la settimana quasi standard con il lunedì di riposo, la ripresa del martedì, tutto poi indirizzato per la partita successiva. Questa è la nostra fase, è il nostro modo di lavorare. Facciamo un lavoro di squadra, facciamo un lavoro di collettivo, di gruppo, bisogna che nella testa dei giocatori entri questo concetto. È molto più importante il simbolo che portiamo avanti, piuttosto il nome che portiamo dietro. Se si vogliono, tutti i giocatori, tutti noi, giocatori, staff, noi tutti, abbiamo grandi aspettative, abbiamo grande ambizione per l'annata che stiamo disputando, che sono tutte legittime. Chi vuole far 30 gol, chi vuole dimostrare sia un giocatore importante, chi vuole giocare più generale precedente, chi vuole farsi rinnovare il contratto. Sono tutte molto rispettative, ma tutti li possiamo, possiamo arrivare a raggiungere questo intaguarda, se ognuno di noi rinuncia a qualcosa da mettere a disposizione della squadra. Se abbiamo questo concetto, pensiamo a togliere di un po'. La squadra è questa, la squadra, la squadra significa questa, togliere un po', mettere un po' da parte io e pensare in noi. Non è una cosa semplice perché è una cosa semplice, perché veramente è normale, è normale il contrario, quindi il lavoro è lungo, è profondo, ma ce la possiamo fare. Questa è una piccola presentazione. Grazie.